Ma io sarei veramente felice, ma davvero, risolverai svariati problemi, comunque andrei subito in giro per Milano a cercare la mia amore rosa, la mia nuova fidanzatina. Orecchie ovviamente solo con olio e sale, non è che abbini a queste odorine un bel vino di quelli che piacciono a te, sarebbe carino. No, completamente ubriaca no, perché comunque abbiamo un attimo una regolina tra di noi, in teoria tutto dopo nel caso. Voglio risolvere questa situazione degli adesivi assolutamente in settimana, adesso penso a qualcosa, magari vi li lascio in un berg che mi piace a Milano e in settimana potete andarle a recuperare, ne lascio alcuni, che dite? Ci sto. E comunque è un po' la stessa cosa perché i radical chic sono figli di papà che non accettano di esserlo, quindi di conseguenza non saprei. Sicuramente tra pagare qualcosa e farsi pagare è meglio farsi pagare, però la sottoscritta che ti deve dire è sicuramente meglio pagante. Questa è una bugia, perché comunque vi ho sempre o quasi reso partecipi alla mia vita privata e poi quando non lo faccio è perché comunque ci tengo alla parerasi della persona con cui esco, con cui sto. Sì, 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 cortissimi, mi fanno schifo quelle cose lunghe, ah, mi fanno impressione. Quanto mi piacciono queste domande stupide, ovviamente sì. Sto per dire una cosa tristissima, ma io mi sono pentita di tutti i tatuaggi che ho fatto, tornassi indietro a fare giusto i due o tre piccolini. Boh, sono cambiata, mi sa, triste. Il mio amo si labbra, il mio amo si labbra. Iscriva laiyor chegar Dottoressa Gaia Marenghi Amo, pare che tu stia andando in guerra, madonna, ti stai semplicemente laureando, tranquilla, grande amo Dottor Gabriele Pellegrino Sì, amo, sì Un'opazione di 110 su 110 Eeeh